Da qualche settimana il suo negozio è tristemente chiuso. Marco Obiali, vulcano di lei, due volte candidato sindaco alle amministrative del 2017 e del 2022 ed ex presidente della Proloquo di Omenia, non intrattiene i clienti con la sua simpatia ed energia. Colpa di un problema di salute che lo ha costretto ad esami approfonditi ed un ricovero ospedaliero che dura da metà settembre prima a Lodi e ora a Cremona. Obiali ha bisogno di una tagliando per il suo corpo ma dal letto d'ospedale non manca quotidianamente di informare amici e conoscenti. La preoccupazione per il suo negozio da parte sua è palpabile e così chi gli vuole bene ha pensato di fare qualcosa di concreto per lui. Dopo il via libera da Ufficio Commercio, Finanza e Ispettorato del Lavoro, grazie alla presenza di un apparente di primo grado, domani è stata organizzata una vendita straordinaria. Chi lo vorrà dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19 potrà fare acquisti. L'iniziativa sarà ripetuta anche la prossima settimana con la speranza che Obiali possa presto tornare ad occuparsi del suo negozio e perché no a ricandidarsi per dare il suo contributo alla sua città. Ieri alcuni amici e colleghi hanno provveduto ad allestire le vetrine, a sistemare e pulire il negozio e a rendere il più possibile accogliente. Ancora una volta da Omenia dunque arriva un bel esempio di solidarietà e di senso di comunità. Ancora una volta da Omenia dunque arriva un bel esempio di solidarietà e di senso di comunità.